Ciao, sono Luca Manelli e in questo video tutorial ti spiego come poter modellare un plinto prefabbricato, appunto quello che stai vedendo, andando ad utilizzare lo strumento pilastro e la modellazione a segmenti disponibile appunto per lo strumento. La particolarità di questa modellazione non è tanto i primi due segmenti che sono appunto la base, ma il terzo segmento che va appunto a modellare il bicchiere del plinto. Come puoi vedere andremo a modellare questo segmento utilizzando un profilo complesso, andando a inserire dei modificatori che ci permetteranno di ottenere questo risultato per cui la parte esterna e la parte interna che vanno a rastremarsi in modo tale da avere uno spessore diverso per quanto riguarda appunto il bicchiere tra la base e la parte superiore. Per modellare il plinto prefabbricato ho aperto un nuovo file partendo dal template standard di Archicad. Per quanto riguarda l'unità di lavoro vado a impostare centimetri e per fare la modellazione ma soprattutto per farti capire anche quali dimensioni andrò a inserire mi andrò ad aiutare con questa traccia bidimensionale. La posiziono nella parte di destra in modo tale da poter leggere le dimensioni che poi andrò appunto a inserire all'interno dello strumento pilastro perché questo plinto prefabbricato lo andrò a realizzare con lo strumento pilastro con la modellazione segmenti. Tanto per anticiparti quello che andrò a fare i segmenti saranno fondamentalmente tre. Il primo parte dalla base del pilastro e arriva fino a questo punto per cui abbiamo questa base poi abbiamo questa parte inclinata che ha uno spessore di 7 centimetri e poi in ultimo abbiamo la parte superiore che ha un'altezza di 90 centimetri che andrà a creare appunto questo bicchiere. Per poter fare questa quest'ultima parte andremo a utilizzare il profilo complesso con i modificatori. Avremo una particolarità appunto sui modificatori in modo tale da dare questa forma alla parte superiore del plinto. Però andiamo con ordine e partiamo dalla base. La base deve avere una dimensione di 180 centimetri per 180 centimetri per cui base quadrata. Vado ad utilizzare lo strumento pilastro e apro la finestra impostazioni. All'interno della finestra impostazioni vado come prima cosa a definire il dimensionamento abbiamo detto 180 centimetri per 180 con base quadrata. Ora per quanto riguarda il dimensionamento vado a non collegarlo con il piano superiore e vado ad attivare la voce segmento. Come abbiamo detto dobbiamo creare una modellazione segmenti per cui vado ad attivare la modalità multisegmentato e per quanto riguarda l'altezza vado ad impostare un'altezza fissa che è pari a 18 centimetri e la vado ad inserire all'interno di questo box in modo tale da avere appunto la base del plinto. Come possiamo vedere è leggermente inclinato sui lati per cui la parte superiore non avrà una dimensione di 180 per 180 ma di 176 per 176. Per poter andare a inserire questo valore dobbiamo andare a modificare la forma del primo segmento che non deve essere con l'uniformità di dimensioni ma deve essere rastremato. Per cui vado ad attivare questo pulsante vado a modificare il dimensionamento nella parte superiore. Abbiamo detto che deve essere di 176 centimetri per lato. In questo modo già possiamo vedere nell'anteprima che abbiamo questa modifica all'interno dell'anteprima del segmento. Per quanto riguarda il materiale da costruzione vado a selezionare cemento proprio perché è appunto un plinto prefabbricato. Fatta questa prima impostazione per quanto riguarda il primo segmento ora posso andare a modellare il segmento superiore. Vado ad aggiungere un segmento vado a lavorare nella parte superiore. Anche in questo caso sarà rastremato ma appunto per poterlo andare a modellare dobbiamo per prima cosa andare a modificare le dimensioni nella parte inferiore che deve essere appunto di 176 per 176 in modo tale che vada a prendere la parte superiore del primo segmento. Mentre per quanto riguarda le dimensioni della parte superiore devono essere di 114 per 114. L'ultima modifica da fare è l'altezza che deve essere al posto di 18 centimetri e deve essere impostato a 7 centimetri. In questo modo abbiamo appunto definito il segmento intermedio. Ora dobbiamo andare a definire l'ultima parte, l'ultimo segmento. Iniziamo a andarlo a inserire poi dopo lo andremo a modificare per cui vado a aggiungere un segmento. Questo segmento è un duplicato del secondo segmento. Dovrà avere un'altezza pari a 90 centimetri. Per quanto riguarda le dimensioni mantengo la dimensione rastremata però in questo caso vado a impostare come dimensione inferiore 114 centimetri. Con questa impostazione vediamo che il terzo segmento viene modellato come se fosse appunto quasi un cubo o un parallelepipedo. Ora questa è l'impostazione che gli abbiamo dato. Adesso dobbiamo appunto andare a definire in maniera più dettagliata la parte superiore perché dovrà prendere questa forma di bicchiere. Per quanto riguarda queste impostazioni ora confermo con ok e vado a inserire il pilastro o il plinto appunto all'interno della pianta. Se lo andiamo a visualizzare in 3d questo è il risultato che abbiamo ottenuto fino a questo momento. Ora dobbiamo andare a definire la dimensione del bicchiere. Dovrà avere una base quadrata e poi come possiamo vedere deve essere forato al centro. Andrò ad utilizzare un retino. Vado a selezionare il materiale da costruzione per quanto riguarda il retino e vado a inserire cemento come materiale da costruzione. Proprio quello che ho utilizzato fino adesso per il pilastro. Vado a disegnare ora un quadrato utilizzando appunto il retino di 114 cm per 114 cm. Per cui mi metto in questa posizione 114 cm per 114 cm e confermo. Vado a selezionare il retino. Vado a creare un offset. In questo caso una copia dell'offset per cui digito alt sulla tastiera in modo tale da creare appunto una copia del retino. E vado a inserire come distanza nell'offset 24,5 cm in modo tale da avere un quadrato interno di 65 x 65 cm. Cioè quella misura che viene riportata appunto alla base del bicchiere. Questo riquadro interno mi servirà fondamentalmente per andare a forare il retino esterno. Per cui seleziono il retino esterno. Sempre con lo strumento retino attivo vado a disegnare un retino usando come traccia la copia del retino che ho fatto. Ora seleziono il retino interno e lo vado a cancellare in modo tale da avere questa forma che adesso mi permetterà di andare a modellare il bicchiere utilizzando appunto un profilo complesso. Seleziono questo retino. Lo vado a tagliare in questo caso. Dal menu opzioni alla voce profili complessi vado a richiamare il gestore profilo. Creo un nuovo profilo. all'interno della cartella strutturale lo vado a nominare plinto bicchiere e confermo con ok. All'interno del gestore profilo vado a cancellare il retino che Archicad mi propone e vado a incollare il retino che ho creato io. Lo posiziono al centro della vista corrente e conservo la vista corrente. Una volta incollato vado a posizionare questo retino in modo tale che l'origine del foglio del profilo complesso sia al centro del retino per cui utilizzando il comando muovi vado a posizionare in questo punto il retino e poi nuovamente con il comando muovi vado a posizionare in questo punto. In questo modo abbiamo appunto definito la posizione del retino. Ora vado a impostare che questo profilo deve essere utilizzato con i pilastri, disattivo il muro e vado a salvare. In questo modo abbiamo appunto definito il profilo complesso. Prima di procedere con la creazione dei modificatori ritorno all'interno della pianta, vado a selezionare il plinto che ho fino a questo momento modellato, entro all'interno della finestra delle impostazioni e per quanto riguarda il segmento superiore vado a selezionare il profilo complesso e vado a cercare il profilo che ho appena creato, il plinto bicchiere. Una volta fatta questa operazione confermando con ok possiamo vedere all'interno della finestra 3D che abbiamo appunto definito il plinto. Adesso visto che nella parte superiore deve avere uno spessore inferiore vediamo come poter procedere. Dobbiamo andare ad utilizzare i modificatori. Se adesso rientro all'interno del profilo complesso devo andare a inserire dei modificatori che siano in grado di andare a modificare lo spessore dei quattro lati del retino che ho disegnato. Possiamo vedere che abbiamo all'interno del profilo complesso la larghezza nominale e l'altezza nominale. Se ad esempio andassi ad attivare questi modificatori per quanto riguarda appunto l'allungamento larghezza e la giusta altezza e vado a salvare, tornando all'interno della finestra 3D e andando a lavorare all'interno del plinto potrei andare a modificare la parte superiore del terzo segmento a livello di dimensioni. Però guarda che cosa succede. Se io vado a inserire ad esempio un valore che è pari a 100 centimetri, Archicad andrà sì a rastremare il segmento, ti confermo con ok, ma come puoi vedere va a rastremare la parte superiore e va a modificare anche la parte interna, però non nella maniera corretta. Infatti adesso ritorno all'interno della pianta e vado a disegnare magari una sezione in modo tale da sezionare al centro il plinto. Vado a posizionare la sezione al centro. Vediamo questa modifica che cosa ha portato. Possiamo vedere che ha sì rastremato la parte superiore, però possiamo vedere che ha stretto la parte superiore del bicchiere. Nella realtà invece cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare in modo che la parte interna del bicchiere non vada a stringere verso l'alto, ma nella realtà deve andare ad allargare. Un po' come possiamo vedere appunto all'interno della sezione. Per poter fare questo tipo di operazione dobbiamo utilizzare i modificatori che vadano a modificare appunto lo spessore del retino. Per cui ritorno a riportare i 114 centimetri per quanto riguarda la parte superiore in modo tale che ripartiamo dalla situazione che avevamo in precedenza, ma adesso dobbiamo lavorare all'interno del profilo. Per cui vado a disattivare questi due valori e vado a creare un modificatore che andrò ad associare allo spessore del retino. Per cui creo il modificatore, lo vado a nominare spessore bicchiere e confermo con ok. Ora per quanto riguarda dove deve essere posizionato questo modificatore, vado a posizionarne uno qua. Come possiamo vedere quando vado a toccare il lato interno il modificatore viene posizionato con questa impostazione, non ha importanza dopo lo modifichiamo, per cui vado a confermare e posiziono il modificatore in questo punto. Ora devo fare in modo che questo modificatore lavori sullo spessore, non su questa diagonale, per cui non devo far altro che cliccare su questo pulsante e andare a impostare questo valore. In questo modo possiamo vedere che il modificatore va a lavorare nella maniera corretta. Adesso devo andare a inserire altri tre modificatori in modo tale che tutti e quattro i lati funzionano allo stesso modo, per cui clicco sul più, andiamo a definire questo punto, vediamo che Archicad fa il posizionamento dello stesso modificatore sempre sulla diagonale, tocchiamo il modificatore, clicco sul pulsante più, in questo caso sarà verticale, poi vado a lavorare su questo spessore, per cui clicco, e vado a lavorare in orizzontale, poi l'ultimo spessore è questo, per cui clicco qui, dovrà lavorare in verticale. Eccoci qua. Notiamo una cosa però nel modificatore, possiamo vedere che l'ultimo che abbiamo inserito lavora in maniera corretta, cioè ci permetterà di allargare o stringere questo spessore mantenendo diciamo come punto di riferimento il centro dello spessore. In questo caso invece vediamo che gli altri modificatori hanno come punto di riferimento di partenza per lo spessore, in questo caso un punto interno, in questo caso un punto esterno, in questo caso un punto esterno. Dobbiamo modificare questa cosa. Per poterlo fare basta andare a cliccare sul quadrato e andare a toccare il lato. In questo modo andremo a modificare il riferimento del modificatore e come possiamo vedere questo che ho modificato lavora come il primo di sinistra. Per cui per poterlo fare basterà cliccare sul riquadro e andare a identificare nuovamente il lato. Ora fatta quest'operazione vado a salvare il profilo complesso. Ritorno all'interno in questo caso della finestra 3d, vado a selezionare il plinto, apro la finestra impostazioni. All'interno della finestra impostazioni possiamo andare a lavorare all'interno del pannello modificatori profilo. Per quanto riguarda la parte superiore al posto di 24.50 andiamo a inserire un valore pari a 6 cm. Possiamo vedere che immediatamente la parte superiore del segmento si è andata a modificare. Fatto questo se noi confermiamo con ok abbiamo modificato il plinto e se ora vado ad aprire la sezione 01 possiamo vedere come è impostato adesso la parte centrale del terzo segmento. Infatti in precedenza avevamo questi segmenti che convergevano verso il centro invece in questo caso abbiamo fatto in modo di poter andare a definire appunto la sezione del plinto così come era all'interno della traccia bidimensionale. Per cui possiamo vedere che abbiamo raggiunto il nostro obiettivo. In questo modo abbiamo visto come poter utilizzare i modificatori e utilizzandoli all'interno dei segmenti dei pilastri o anche delle travi abbiamo l'opportunità di andare a utilizzare il segmento rastremato in modo tale da poter andare a gestire il valore dei modificatori su un lato e poi sull'altro lato del segmento.